Attenzione! Questo giro di video nuovece gravamente sono saluto del vostro portafoglio Bella raga! Oggi siamo qui sul canale perché in edicola è appena spawnata una nuovissima raccolta Cioè, nuovissima si fa per dire Perché quest'anno è già la quarta edizione di questa raccolta E ovviamente, sto parlando perché si comincia da adesso Si comincia da settembre a parlare di calciatori panini Ma così come negli ultimi quattro anni calciatori anteprima Ormai la stagione calciatori si parte sempre con la versione anteprima E secondo me quest'anno ci saranno delle grandi grandi belle novità Raga, esteticamente l'alum cosa vuoi dirci? Non è male, cioè, ci sta niente di speciale comunque Gli darei non più di 6 e mezzo, 7 Ci sta come copertina L'alum che racchiude tutte le figurine di squadra di serie A, B, C Negli ultimi quattro anni per ogni singolo anno abbiamo sempre avuto un'evoluzione da un anno all'altro Tipo la prima versione di calciatori anteprima aveva qualcosa come 100 figurine, 130 Seconda edizione ne aveva già 200 e la terza ne aveva già oltre 400 Colta che mi lascia sempre un po' perplesso Perché comunque ne col tempo sta diventando sempre una raccolta più complicata da finire Quindi mi stava finché erano 100-200 figurine Adesso che comunque è diventata anche quest'anno mi sembra già oltre 400 figurine O 300 E regala, è una raccolta complicata Comunque non è male come idea avere un calciatori anteprima Un calciatori panini E poi avere anche il calciatori celebration set È una stagione quasi completa di calcio Praticamente, regala, le figurine ci accompagnano per tutta la stagione agonistica Quindi non è una brutta idea Oggi, ovviamente, oltre ad analizzare l'album Andremo anche a spacchettarci qualche pacchettino Ne ho presi un po', aspettando che mi arrivino dei box Quindi intanto ci spacchettiamo questi pacchetti qua Non so quanti ne spacchetteremo Però lasciate un bel like Perché a 400 like ci spacchettiamo un box completo di questa raccolta Vi ricordo, come sempre, di iscrivervi al canale Se ancora non l'avete fatto Che a me supporta veramente tantissimo Ma soprattutto, regala, vi invito anche a seguirmi sui miei social TikTok Ma soprattutto, però, Instagram Che lì vi lascio sempre aggiornati su tutto quello che succede nel mondo panini E nel mondo tops Link in via Detto questo, regala, non vi perderei ulteriormente in chiacchiere Andiamo a spacchettare tutto quello che troviamo oggi Vamonos Collezionisti, eccoci qua pronti per spacchettare Ma soprattutto, in questo caso, analizzare il nuovissimo album Calciatori Anteprima 2024-25 della Serie A Come ho detto in precedenza Questo tipo di raccolta Anteprima Dà il via Aprele Dance per la nuova stagione Calciatori Con la successiva uscita di Calciatori Panini 24-25 E poi successivamente ancora la raccolta Celebration Tre raccolte che ci accompagnano attraverso tutta la stagione calcistica Come Anteprima che come ogni anno Dico ogni anno è molto molto sottile Con non tantissime figurine Però come ho detto prima È sempre stata un'evoluzione Ogni anno hanno messo sempre più figurine All'inizio mi piaceva anche perché era di solo le 100 figurine Il secondo anno hanno aumentato Quasi raddoppiato comunque le 250 figurine Terzo anno che ha raggiunto quasi le 400 figurine Quindi è stato già un album un pochino più pesantuccio Copertina dell'album veramente molto basic Comunque come Anteprima può andare sinceramente Il retro raga è pulito Così come la copertina Prezzo dell'album di 2 euro come c'è scritto qua Andiamo a vedere quello che possiamo trovare al suo interno Tra cui subito la figurina numero 1 Poi tutto quello che troviamo all'inizio Un po' di disascalie Ok E poi abbiamo le squadre Le squadre hanno un totale di 13 figurine proprio per squadra Quindi ogni squadra avrà le sue 13 figurine penso in teoria Sì 12-13 Eccolo qua il mio como che torna in serie A Sono veramente contento Andiamo a vedere magari la squadra campione d'Italia Dov'è l'Inter Eccola qua In cui possiamo trovare Niccolò Barella C'è la Noglut Marcos Turam L'Otoro Martínez E così via tutti i campioni La Juventus Con Turami Dizio Locatelli D'Agras Lewis E chi più ne ha più ne metta E poi andiamo a vedere giusto il Milan di squadre Giusto per Perché comunque è una squadra che lotta Infatti ci troviamo Reinders Leao Alvaro Morata Pulisic Loftus Cic E via Per la prima volta abbiamo un piccolo spoiler importante Perché ci sarà una collaborazione tra Panini e Fantacalcio L'applicazione del Fantacalcio proprio Che uso sempre Ho sempre usato da quando faccio il Fantacalcio Da ormai 8 anni Andavo le superiori ancora quando l'ho cominciato Fate voi E qui abbiamo tutte le stelle del Fantacalcio Che vi dico Non è una brutta idea Perché comunque il Fantacalcio è una cosa che va tantissimo di moda ultimamente Qui abbiamo i giocatori più amati I giocatori in rampa di lancio Comunque una bella sezione Poi il Super 9 Che non so cosa sia Poi andiamo a scoprirlo sincero Però attenzione attenzione In collaborazione con il Corriere dello Sport E Tutto Sport Che sia un anno in cui non ci sia più la gazzetta Ma la collaborazione diventa con Corriere e Tutto Sport Non lo so Scopriamolo insieme Perché secondo me questa cosa è una cosa molto interessante Che poi andremo a scoprire Poi come vi dicevo C'è la serie B Che però non capisco perché ci sia scritto update Probabilmente saranno aggiornamenti Eh sì raga Con Tutto Sport e Corriere dello Sport Ci saranno delle bustine d'aggiornamento Sarebbero un po' il fin del campionato Che con cui usciva la gazzetta dello Sport Un po' di Cioè fino all'anno scorso sincero L'unica differenza È che ora ce l'abbiamo anche Nella raccolta anteprima Quindi vabbè dai ci sta Dai non è male come idea Poi abbiamo le figure di serie C Quindi raccolta veramente bella Ed interessante Penso che siano gli scudetti In questo caso Più gli update Raga non so cosa potrebbe uscire di update Sinceramente E poi qua Se ne avete voglia Si può fare il pronostico vincente Mettete voi in classifica Gli scudetti Come secondo voi Uscirà la classifica finale Poi a fine campionata Andate qua a vedere Se avete pronosticato bene O pronosticato male Raga detto sinceramente A me questa raccolta Mi ha incuriosito Veramente tantissimo Quindi non mi perdere in chiacchiere E cominciare a spacchettarmi Qualche pacchetto Giusto per aprire le danze E vedere bene Com'è la raccolta in sé Intanto ci troviamo Il buon Quicciaco Arascheia La maglia del Genoa Stavo per dire Atalanta Non so perché Comunque poi Andrea Cambiaso Rachmani del Napoli Vlasici del Torino E poi abbiamo Muschera Domanda così a bruciapelo Voi lo fate il fantacalcio raga? Perché io ne faccio due tra l'altro Intanto ci troviamo Due scuolati serie C Poi abbiamo Neuan Perz Dell'Udinese Luca sempre dell'Udinese I zaghi allenatori dell'Inter Di Lorenzo Del giocatore del Napoli Capitano E Ismaili Non sono male comunque le figurine Non troppo piccole Non troppo grandi Giuste Due giocatori in rampa di lancio Piccoli e fagioli Ecco tipo questi qua Non mi fanno impazzire Con i faccioni così buttati lì Pasalice Baschirotto Poi Cambiaghi del Bologna Fagioli della Juventus Friendloop del Genoa E Ciuquese Ah ecco Non ve l'avevo detto prima Ma comunque Le bustine vengono un euro al pacchetto Prezzo altino Però ormai dobbiamo abituarci Questi sono un po' i prezzi Daccani e Pellegrini Poi abbiamo la Maglia dell'Atalanta Ancora ma dopo Perché c'ho la parola Atalanta in bocca? Cioè la Maglia dell'Inter Che tra l'altro ho appena su adesso Viola del Cagliari Spinazzola del Napoli Anguissa E Locatelli Scrollati la tattica Vediamo cosa ci esce adesso Piacere Zito Lovumbo Bella questa Maglia del Monza Poi abbiamo Ricci del Torino Pazzini dell'Empoli Pagliero dell'Udinese E Cutrone del Como Pec successivo signori Speriamo di trovare qualche bel giocatorino Vabbè dai Non è male Pavard E Teo Hernane Smaglia dell'Empoli Poi abbiamo Palladino della Viola Carne secchi dell'Atalanta Ocoglie dell'Udinese E Sommer dell'Inter Certo che comunque per un euro Potremmo mettere uno o due figurini in più Male non faceva eh Panini Piccolo consiglio eh Non ho nulla di male contro di voi Però qualche figurino in più Non mi sarebbe costato nulla Gudmundsson che però è già alla Fiorentina Poi abbiamo Bremer della Juve Mann del Parma Ottimo giocatore per fantacalcio Rovella e Pogracic Andiamo andiamo Col pacchetto Dopo Lukman dell'Atalanta Poi abbiamo Illiz E Oristagno Passiamo a Caldirolla del Monza Cabal della Juve L'Exorella Svelona Miko Cisavic E Duncan Pacchettino dopo Vediamo se si dice bene Adams e Marin Poi abbiamo Cialanoglu E Lautaro Il Toro Martinez Poi abbiamo la Lucchese E il Milan Futuro Lo Scudetto Eh ma perché cominciamo con le doppie così Ma perché dovete farmi venire il nervoso così Angelinho E Izzes Oh regà cosa ho aperto 6-7 pacchetti E abbiamo la prima doppia Vamonos Paschi Rottone Nazionale Novara e Padova Quindi due squadre di serie C Giuliano e dopo il Milan Futuro Troviamo anche il Juventus Next Gen Poi abbiamo Nicola Vlasic Altra doppia Vitigna del Genoa E Meretto Pacchetto successivo Pacchetto successivo Stanno terminando Varane e Tete Morente Nonostante Varane sia fuori dalla lista Convocati Serie A L'hanno messo Man e poi Ampalo Poi abbiamo la maglia dell'Udinese Bellanova Ex Torino Perché è una giocata lanta Viola doppia Terza doppia Buono e Ruggeri E basta Oh con le doppie le stiamo mettendo Panini le abbiamo messo Un po' di doppi Bravi Cudetti del Messina E Audace Cerignola Luca e Foloruscio Poi abbiamo Nico Gonzalez E Zapata Passiamo poi a Gitkier del Venezia Dumfries dell'Inter E Biraghi Regà in realtà è stato uno spacchettamento Alquanto veloce Abbiamo solo ancora tre pacchetti rimasti E poi abbiamo finito lo spacchettamento di oggi Maglia della Lazio Poi abbiamo lo scudetto del Bari E lo scudetto del Brescia Passiamo poi lo scudetto della Binoleff E dal Cione Milano Poi abbiamo Carne Secchi Dell'Atalanta Caputo dell'Empoli Tiago Motta della Juventus Penultimo pacchetto della giornata Vediamo Vediamo Trapani e Turisi Due scudetti Mantua e Modena Poi abbiamo Pergolettese E Propate Tanta serie C Ola in questo pacchetto Fazzini dell'Empoli Poi abbiamo Magnani E l'ultima è Scalvini Scrollatina tattica Vediamo se ci riesce Nell'ultimo pacchetto qualcosa di buono Scudetto di Milano E scudetto del Monza E comunque sono due buoni scudetti Da tenere da conto Vlasic e Zappacosta Poi abbiamo Guendusi della Lazio Conto allenatore del Napoli Neo allenatore del Napoli Caldirola del Monza E concludiamo con Vasquez Un'altra V Mi sembrava Vlasic In quindici pacchetti Una tripla Mi sembra un pochino esagerato Ragazzi queste sono tutte le figurine Che siamo riusciti a tirar fuori Da questi quindici pacchetti Perché erano giusto quindici Ricordi di lasciare il like Perché a 400 like Vi porterò un box intero Spacchettato sul canale Di queste calciatori Anteprima Anche giusto per vedere A che punto arrivo Con la raccolta dopo un box Album esteticamente Devo dirvi niente male Fatemi sapere voi Cosa ne pensate di questa raccolta E detto questo Ci vedete Al prossimo video Al prossimo video